Il caos è scoppiato dopo che l'artista ha scelto di commemorare Raffaella Carra. Morta nelle scorse ore, con un post su Facebook tanto originale quanto discutibile. Almeno per una miriade di utenti che hanno trovato l'idea di Casagrande tutt'altro che azzeccata. Maurizio è un figlio d'arte, il cui padre è Antonio Casagrande. Ma cosa c'entra con Raffaella? Presto detto, molti anni fa. Novella 2000, sostenne che tra Antonio e la Carra ebbero un flirt sclandestino. All'epoca scoppiò lo scandalo. La realtà, almeno quella ufficiale, è che si trattò di una trovata poco felice del gossip. Insomma, forse fu montato un caso senza fondamento. Proprio tale episodio è stato ricordato oggi da Maurizio che si è augurato anche che quella notizia non fosse vera. Altrimenti detto, a lui stesso ha lasciato trapelare qualche dubbio. Questo il post dell'attore, figlio di Antonio. Addio Raffa, ti ho conosciuta da bambino. Lavoravi con mio padre e ci fu un piccolo scandalo in quel periodo. Su Novella 2000 furono pubblicate delle foto in cui camminavate insieme, di notte. Nei viali di Villa Borghese a Roma. Mio padre mi ha sempre detto che fu solo una montatura giornalistica. Sei stata la più grande showgirl italiana, quando essere una showgirl significava saper fare tutto e non niente come oggi. Conte se ne va un pezzo importantissimo della storia di quella che fu la grande rai radio televisione italiana. Sono tristissimo per la tua scomparsa e, dentro di me, sapendo di fare un torto a mia madre. Mi auguro che mio padre non mi abbia detto tutta la verità su quella passeggiata. Ilunga PG 204 W Sizzes uguale, max width. 350px, 100w, 350px no script src uguale data, image svg più xml. Per 103 csvg per 120 xml ns uguale per 122 http, due punti, slash slash, www.www.w3.org.2000-svg per 122 diviso per 20 vbox uguale per 120 diviso per 200 diviso per 20.350 diviso per 20.514 diviso per 22 diviso per 3% 3 csvg per 103 e data data per 252 diviso per 20.514 diviso per 122 diviso per 20.514 diviso per 122 diviso per 120 diviso per Sotto al post sono piovute critiche, c'è chi ha trovato di cattivo gusto il pensiero, chi ha fatto sapere di voler levare il segui all'attore e chi lo ha accusato di manie di protagonismo. Da segnalare anche che diversi utenti hanno difeso Casagrande, reputando il suo gesto per nulla fuori tema e affettuoso. Nei confronti di chi lo ha criticato, Maurizio ha detto, la notizia fu pubblicata su di un giornale a tiratura nazionale ed ho precisato che era una montatura giornalistica. Il mio racconto scaturisce da un'emozione vera e profonda che mi ha suscitato la morte di Raffaella Carra. Quello che penso è che le persone come te dovrebbero imparare a leggere senza fare commenti stupidi ed inopportuni per il solo gusto di sentirsi importanti. Nonostante la precisazione, sono continuate a cascare e bordate sotto al postale. Ecco alcuni commenti a caldo contro l'attore Campano. Tantissimi VIP fan, si social, hanno commemorato Raffaella dopo aver saputo della sua morte. Registrata alle 16, 20 del 5 luglio 2021. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno in quanto la Carra ha voluto mantenere assoluto riservo fino al decesso sulle sue condizioni di salute. Tra i tanti che hanno dedicato alla regina della TV un pensiero, ci sono stati Simona Ventura. Mili Carlucci, Barbara D'Urso, Maria De Filippi, Carlo Conti, Tiziano Ferro. Mara Venier, Gianni Morandi, Nancy Brilli, Eleonora Daniele, Antonella Clerici. Carmen Russo, Lorella Cuccarini, a cui si aggiungono molte altre figure note del mondo dello spettacolo. Politica e della cultura del bel paese. Grazie a tutti.